I racconti della Radiolina di Filomeno Pasqui Ebbene sì, cercammo di fargli riprendere il racconto, ma lo shock era stato devastante, I capelli da grigi gli erano diventati bianchi, le mani tremavano, gli rimettemmo la pipa in bocca, gli facemmo bere il vino preferito e riprese un po' di colore, fece due o tre spot da sotto, la paura era stata tanta, e poi riprese a raccontare così. Allora, vedi quegli occhi fiammeggianti che mi guà, mi guà, mi guà? Orrore! Il nonno balbettava! Il suo audio si era lesionato e anche i suoi gesti, abitualmente lenti e descrittivi, sembravano quelli di una marionetta. Favilla, il suo amico, gli inoculò un altro mezzo litro di rosso e provò ad aggiustarlo col sistema carnera, quello con cui faceva ripartire i trattori. Gli tirò un tale pugno sulla schiena, che l'interno del nonno rimbombò come una botte da cinquecento litri. Telemaco fece un altro spot e riprese a raccontare così. Allora il lupo nitrì e si impennò, e fiammeggianti la luna vidi mentre gli abeti sul calesse. Favilla disse, che occhi che c'era intorno! Nera, addio! Il cavallo ululò e il fucile si cagò sotto e dissi, Arbecht, Magt, Frey, Caterina, levati i mutandoni, mentre le orribili zanne del sergente Muller urlavano, aiuto, aiuto, rubano il maiale. I circuiti narrativi del nonno erano fusi e se ne era venuto fuori un pasticcio composto di brani del racconto interrotto, episodi di guerra, ricordi vari e anche particolari intimi del rapporto con la nonna. Fu fatto un ultimo tentativo. Il nonno fu messo a testa in giù, scosso violentemente e liberato dal surplus di elettricità, nonché di vino e polenta. Rimesso sulla sedia, così parlò. C'erano sette lupecche più feroci nero fummo. Qui scozzo leveni i pecore meunet me and my friend Faville, con che lesse e chevels transiteven d'intaggola della chouette, la chermen colette. Autentico marasma di slang iper vocalico, con la sorprendente comparsa delle lingue straniere, che il nonno non conosceva, e l'inquietante apparizione di una francesina che mandò in bestia la nonna. Decidemmo perciò di soprassedere e aspettare il decorso del caso. Il nonno dormì due giorni e due notti. Quando si alzò, fece le solite cose. Diede da mangiare alle bestie, andò a zappare l'orto, fece un salto da Favilla a parlare di imbottigliamento, tornò, mangiò e si sedette vicino al fuoco. E stette zitto, immobile, con due lacrimoni che gli irrigavano le gote rugose. Era chiaro che Telemaco, 87, 2 pollici, era rotto e bisognava ripararlo, perché non potevamo vivere senza i suoi racconti. Per prima cosa, convocammo un medico, il dottor Faina. Egli dichiarò che c'era uno squilibrio neurologico elettrolitico e si poteva provare a dargli della camomilla. Ma dare della camomilla al nonno, anche diluita nella grappa, era come ucciderlo. Il veterinario Schioppagatti disse che secondo lui si trattava di un problema psicoepizootico, una perdita di memoria e identità, come ad esempio quando un papero viene allevato da una tacchina o un gatto da una cagna, e suggerì di farlo dormire con i maiali. La mattina il nonno era uguale a prima, mentre tutti i maiali avevano preso il vizio di fumare la pipa. Venne chiamato Ciampino, un riparatore di tritacarne e televisori, il quale disse che non aveva mai visto un modello di Telemaco 87 e comunque non essendoci valvole e manopole lui poteva farci poco. Provò a tirargli le orecchie e a strizzargli un coglione, ma il nonno gli tirò un cazzotto in faccia che per poco non lo accoppava. Allora intervenne Favilla e sentenziò che bisognava chiamare un riparatore di nonni. Ce n'era uno dall'altra parte della montagna, si chiamava Uffizeina, e lui ce l'avrebbe portato, a qualsiasi costo. Infatti due giorni dopo una giardinetta si fermò nell'aia e insieme a Favilla ne uscì un ometto basso con gli occhietti da gallina e una borsa da attrezzi grande due volte lui. Uffizeina esaminò attentamente il nonno, lo misurò con un amperometro, gli ascoltò la schiena, proprio come fanno i medici, gli fece fare un rutto nel misuratore di pressione delle gomme, poi diede il risponso. Il nonno aveva subito una strinatura elettrica del cervello. Nella sua testa c'era un albero di Natale di neuroni ed elettroni e positroni che si accendevano quando pareva loro, e i ricordi e le parole non potevano andare dritti, perché prendevano la scossa e deviavano e rimbalzavano l'uno contro l'altro. Insomma, dentro al nonno c'era troppa elettricità. Infatti gli mettemmo in bocca una lampadina da 60 watt e brillava che era un piacere. Il rimedio era evidentemente uno solo. Uno shock si cura con un contro shock. Il nonno doveva beccarsi un altro fulmine. E secondo Uffizeina c'erano quattro possibilità. Uno, il fulmine succhiava via l'elettricità eccedente del nonno e tutto tornava normale. Due, il nonno succhia un'altra dose di elettricità e diventa pazzo completo. Tre, il nonno si carbonizza e diventa un mucchietto di fondi di caffè. Quattro, non lo so perché non l'ho mai fatto prima. Poiché la prospettiva era rischiosa, fu convocata un'assemblea di famiglia. E ognuno disse la sua. Nonna disse che era troppo pericoloso e non valeva la pena. E comunque il nonno, a parte il difetto nel raccontare, funzionava ancora benissimo. D'altronde erano anni che lei sognava l'elettricità in casa e quella era una fortuna da sfruttare. Magari se gli costruivamo un seggiolone bello alto, da lì poteva illuminare tutta la cucina. Mio zio disse che il nonno non era felice ed era giusto rischiare. Ma forse bisognava fare prima una prova e lui suggeriva un volontario. Ad esempio, sua moglie, Marcella. Zia Marcella disse neanche per sogno. E poi a lei i racconti del nonno non piacevano neanche tanto. Anzi, suggerì di prendere un altro nonno da cammino. Una Romualda 92, che conosceva tante belle storie romantiche e ricette di cucina. E non faceva tanti spot come il nonno. Mio babbo disse che avrebbe rotto la Romualda bastonate, perché il nonno Telemaco era unico e bisognava tentare di tutto per aggiustarlo. Mio fratello disse che era incerto. Perché se il nonno moriva, non solo non avremmo più ascoltato i suoi racconti, ma sarebbe toccato a lui tenere dietro all'orto. Mia mamma disse che la cosa migliore era chiedere al nonno. Il nonno rispose, voglio vivere così, non posso guarire. Uffizena, controllandogli il potenziale elettrico sul coppino, disse che era ancora sotto shock e in realtà aveva detto, voglio guarire, non posso vivere così. Perciò ci preparammo all'operazione Contro Saetta 2, che fu lunga e difficile. Bisognò preparare l'attrezzatura e aspettare l'occasione adatta. E una sera di febbraio, nubi nere oscurarono il cielo e si videro, lontano, bagliori di lampi. Stava per arrivare un temporale coi fiocchi. Il nonno fu messo in mezzo al campo, con uno scolapasta come elmo e le tasche piene di forchette. Sulla testa aveva un'antenna costruita da Uffizena, con sette metri di fil di ferro e una caffettiera in cima. E i piedi gli avevano legato due ferri da stiro. Ci posizionammo a un centinaio di metri. La nonna pregava. Lo zio accettava scommesse. E io non sapevo se essere impaurito o eccitato. Ed ecco che cominciò a diluviare. Caddero i primi fulmini. Uno su un ipocastano. Un altro sulla strada. Un altro nella vigna. È lì, è lì! Urlavano tutti indicando il nonno, ma i fulmini non ne volevano sapere. Uno addirittura puntò il nonno, ma all'ultimo momento scartò e fece secca la giardinetta di Favilla. Dieci minuti di bombardamento non sortirano effetto alcuno. Poi il nonno ebbe un'idea geniale. Guardò in su. Portò le mani alla bocca e gridò con tono di sfida. Non mi prendi! Non mi prendi! Sì di un brontolio irato. La nube nera si gonfiò. Quale che fosse la divinità evocata dal nonno, la provocazione era andata a segno. Favilla! Gridò il nonno. Hai presente il geometro biondi? Quello che si dà delle grandi arie da cacciatore. Beh, una volta l'ho visto tirare venti schioppettati a una lepre zoppa senza prenderla. Mi sa che quel signore la sua la mira del geometro biondi. Stavolta si preparava qualcosa di grosso. La nube triplicò il volume e scaricò ruggendo non uno, ma quattro fulmini che centrarono il nonno esattamente sul cranio. Lo spostamento d'aria ci buttò tutti a terra. Quando ci riprendemmo, il nonno giaceva al suolo esanime. e la pioggia era cessata di colpo. Le campane annunciavano l'alba. Grazie a Dio, il nonno era bruciacchiato, ma vivo. Fu messo davanti al fuoco, rifocillato, e subito gli chiedemmo Telemaco, ci racconti una storia? Era il novembre del 1943. Iniziò lui. Io e Favilla eravamo sulle montagne, temendo una rappresaglia tedesca. Erano circa le sette di un fresco mattino autunnale. Tirava un vento da est e i campi erano pieni di brina. Ricordo che io vidi un bel po' di funghi porcini, circa 36, ma proprio mentre stavo per raccoglierli, sentii il rumore di motori e vidi avanzare sulla strada sottostante un'autocolonna comandata dal maggiore Hans Rieger di Dusseldorf, Sparkstrasse 124, comprendente cinque camionette Magirus con ventitré soldati, un mortaio da 120, e una jeep con due mitragliatrici leggere da 180 colpi al minuto, guidata da tale caporale otto, un bavarese alto circa un metro e settanta, sottili baffi biondi, una cicatrice sotto l'orecchio destro. Il nonno aveva ripreso a raccontare con una lucidità e una precisione di particolari del tutto nuova. Come disse Fabilla, gli si erano ricaricate le pile. Il problema fu che non si riuscì più a spegnerlo. Parlò ininterrottamente per undici anni. La notte dovevamo chiuderlo nel pollaio insonorizzato perché sennò teneva svegli tutti. Nessuna cura funzionò, ma nonno era felice. Raccontava storie alle galline, raccontava zappando nell'orto, vendemmiava raccontando e raccontava mangiando. Cessò le trasmissioni una mattina di luglio, a 93 anni. Non lo dimenticheremo mai.